ciao a tutti oggi vedremo come si creano gli shape layer ovvero i livelli forma innanzitutto incominciamo col creare una nuova composizione composition new composition shape layer lasciamo i soliti reset hd 10 secondi sfondo nero ok mettiamo come sfondo anziché il nero mettiamo la scacchiera bianca e grigia cliccando qui allora gli strumenti per creare lo shape layer o il livello forma sono questi due qui nella parte alta di after effects allora se io clicco sul primo dei due strumenti e tengo premuto un attimo compaiono le cinque forme predefinite che io posso creare oppure se invece attivo il pennino posso creare vertice per vertice io manualmente la forma che voglio adesso concentriamoci un attimo sui le forme predefinite innanzitutto proviamo con un rettangolo io posso creare delle forme in due modi diversi il primo è questo veniamo qui nel monitor della composizione clicco dove voglio cominciare a creare il rettangolo qui e poi trascino in questo caso verso destra lascio andare il mouse e ho creato un rettangolo lì dove volevo crearlo lo seleziono la timeline lo elimino adesso lo creo col secondo metodo che è semplicemente fare un doppio clic sulla forma che è stata scelta qui quindi di nuovo seleziono sempre il rettangolo poi ci clicco due volte qua doppio clic ho creato sempre un rettangolo ma questa volta la dimensione è automatica cioè e viene grande esattamente quanto la composizione adesso ridisegno di nuovo con i due metodi il rettangolo per farvi capire qual è la differenza fondamentale fra i due allora di nuovo elimino prendo di nuovo lo strumento rettangolo questa volta crea un rettangolo piccolo qui nella parte alta di sinistra vi faccio notare subito dove si trova l'anchor point guardate sta qui al centro della composizione e non al centro del rettangolo che ho creato se io creo un rettangolo col doppio clic seleziono il rettangolo ed è sta sempre lì al centro della composizione che in questo caso è anche già il centro del rettangolo ok quindi di nuovo cancello se io di nuovo crea un rettangolo col primo metodo e poi voglio l'anchor point al centro del rettangolo ce lo devo mettere io perché lì non ci va automaticamente quindi posso farmi aiutare come al solito dalla palette move anchor point basta che io clicco qui al centro della palette e l'anchor point subito finisce lì questa è la differenza più importante fra i due metodi oggi noi durante l'esplorazione di tutte le forme predefinite useremo prevalentemente il secondo metodo che è quello del doppio clic di nuovo doppio clic sul rettangolo e crea un rettangolo grande come la composizione ora vediamo come possiamo modificare l'aspetto di questo rettangolo si può fare naturalmente a mano prendendo i bordi spostandoli larghezza altezza e addirittura se vi avvicinate all'angolo potete anche ruotare torno indietro ctrl z ctrl z oppure si può ed è quello che faremo prevalentemente oggi agire direttamente sui parametri che gestiscono questa forma qua e dove li troviamo qui nella timeline c'è una sezione che si chiama contents che hanno tutti gli shape layer all'interno del quale c'è proprio la forma che ho creato che in questo caso si chiama rectangle one se noi apriamo anche questa sezione ci sono varie parametri noi concentriamoci sul primo apriamo in questo caso rectangle path e qua ci sono le tre proprietà che gestiscono questa forma rettangolo che sono la dimensione la size ok una specie di scala c'è la position la sua posizione all'interno dell'inquadratura e c'è la roundness proviamo aumentarla che fa la roundness e gestisce la rotondità degli angoli di questo rettangolo infatti è aumentata la rotondità può andare da un minimo di zero angoli perfettamente retti ad un massimo che in questo caso è questo oltre non si può riportiamo a zero ok questo è lo shape layer con forma rettangolare prima di proseguire nel caso volessi un quadrato come si fa semplicemente si va a lavorare sulla size in questo caso bisogna che l'altezza e la larghezza siano uguali quindi basta spegnere la catena e mettere lo stesso valore sia in larghezza facciamo mille per mille quindi si può creare un quadrato poi si riattiva di nuovo la catena a quel punto rimane quadrato se si volesse creare un quadrato invece con il primo metodo vi faccio vedere anche quello elimino prendo lo strumento rettangolo clicco tengo premuto il mouse e durante il disegno aggiungo lo shift quando ho terminato lascio andare il mouse prima e poi lo shift e alla fine ho direttamente un quadrato ok bene eliminiamo di nuovo la forma proviamo a passare alle altre forme predefinite la seconda è una variazione della prima un rettangolo con gli angoli rotondati in ogni caso seleziono la seconda forma doppio clic e ho creato un rettangolo che qui non si nota molto ma ha già gli angoli arrotondati se adesso io vado dentro nella timeline della sezione rectangle rectangle path le proprietà di prima ce le ho anche qua e la roundness è già messa a 20 di valore anziché zero quindi è questa l'unica differenza fra le due forme che la seconda ha la proprietà roundness già maggiore di zero tutto lì ok benissimo eliminiamo anche questa forma creiamo un'altra con la terza disposizione che è l'ellisse quindi se faccio doppio clic sulla forma ellisse crea un ellisse grande come la composizione benissimo vediamo le sue proprietà qui nella timeline in questo caso il contenitore della forma si chiama ellipse naturalmente poi ellipse path contiene le sue due proprietà che sono anche qui size e vabbè position non c'è nient'altro roundness ovviamente non c'è perché essendo un ellisse se volessi un cerchio il discorso identico a quello del quadrato cioè posso arrivare a un cerchio facendo in modo che l'altezza la larghezza abbiano lo stesso valore spegnendo la catena mettendo mille per mille vediamo come abbiamo fatto prima e di nuovo ho un cerchio e se voglio mantenere il cerchio riaccendo la catena e ho il cerchio anche in questo caso elimino il livello se volessi disegnare un cerchio io a mano prendo lo strumento ellisse e mentre sto disegnando l'ellisse aggiungo il tasto shift e di nuovo ho un cerchio fatto da me benissimo proseguiamo troviamo il poligono doppio clic sul poligono e in questo caso un pentagono andiamo a vedere le sue proprietà qui nella timeline dentro polistar in questo caso si chiama così c'è polistar path e qua ci sono più di tre proprietà questa volta c'è la proprietà points che gestisce il numero di lati in questo caso cinque e se aumento aumentano i lati se diminuisco posso arrivare a un minimo di tre e quindi posso creare rapidamente un triangolo bene rimettiamo cinque la position vabbè come per le altre forme la rotation volendo posso ruotare per cambiare la direzione delle punte outer radius il raggio del cerchio che contiene il poligono e l'auto roundness se l'aumento i lati si piegano all'infuori poi se diminuisco si piegano verso l'interno insomma posso creare cose anche interessanti bene elimino di nuovo vediamo l'ultima forma la stella doppio clic anche qua stella cinque punte andiamo a vedere le sue proprietà polistar path numero di punte in questo caso cinque o più o meno minimo tre massimo quante voglio io rimettiamone cinque position c'è sempre questa la rotation benissimo l'inner radius questo gestisce la distanza di questi punti qua dal centro è solo dei punti interni vediamo sto soltanto spostando i punti interni mentre le punte esterne della stella rimangono fermi per esempio così questa è una stella un po più precisa l'auto radius invece gestisce la posizione soltanto delle punte ok posso allungare può accorciare la lunghezza delle punte bene poi c'è l'inner roundness la rotondità dei punti interni eccola qua lo posso aumentare o diminuire e poi c'è la rotondità delle punte l'ultimo outer roundness che fa in modo di arrotondare le punte ed ecco che posso partendo da una stella arrivare invece a un fiore se volessi bene adesso proviamo usare l'altro strumento per creare forme che è il pennino qua su in cima ci clicco sopra vengo qui nel monitor devo io creare punto per punto la forma che voglio quindi i modi sono due per creare questi vertici adesso uso il primo metodo che è clicco e rilascio istantaneamente il mouse e ho creato il primo vertice qua poi mi metto in questa posizione clicco lascio il mouse e ho creato due punti uniti da questa retta adesso genero il terzo qua ed ecco che comincia a riempirsi tre punti uniti da delle rette e intanto si riempie lo spazio posso proseguire così sempre cliccando rilasciando il mouse subito quando voglio chiudere la forma basta che riclicco sul primo vertice sono arrivato qua riclicco sul primo a fianco al pennino compare un cerchietto il che significa che sto per chiudere la forma adesso ci clicco e la forma è chiusa questo è un metodo per creare i vertici tra i quali passano delle rette elimino questo shape layer di nuovo l'altro è sempre prendo il pennino e non mi limito a cliccare ma clicco e trascino col mouse premuto a quel punto da vertice escono queste due maniglie opposte queste maniglie sono le stesse che abbiamo visto nella lezione sul tracciato di movimento e si chiamano maniglie di besie quindi ho creato il primo vertice adesso genero il secondo clicco e trascino di nuovo e nel frattempo posso anche poi ruotare o allungare queste maniglie per cambiare l'aspetto della curva che passa per i due punti e poi posso continuare così adesso per chiuderla clicco sul primo e poi aggiusto la curvatura ok elimino ripeto col pennino i punti sono di due tipi o clicco e rilascio subito e non compaiono le maniglie oppure clicco e trascino e quando creo una forma non sono obbligato a fare tutti i punti con le maniglie ho tutti i punti normali posso scegliere di volta in volta quindi posso aver bisogno di punti attraverso i quali passa una curva oppure punti normali posso alternare oggi con l'uso del pennino però ci fermiamo qua una lezione futura magari vedremo come migliorare l'uso del pennino in generale perché col pennino si possono creare shape layer ma anche maschere tracciati come abbiamo anche visto e quindi oggi ci fermiamo qui per l'uso del pennino per quanto riguarda la creazione di shape layer bene elimino di nuovo ora vediamo un'altra cosa che riguarda sempre gli shape layer che è il loro aspetto dal punto di vista dei colori ricreo di nuovo un rettangolo quindi prendo lo strumento rettangolo doppio clic apro un attimo le proprietà diminuisco un filo la dimensione ora se sto creando uno shape layer qui a destra dovrei vedere due palette una per il riempimento fill e una per il colore che gestisce il bordo incominciamo con il colore che gestisce il riempimento è blu però adesso vediamo in quanti modi possibili posso io colorare l'interno di questo rettangolo per fare ciò prima di andare a decidere il colore qui a destra clicco sulla voce fill quindi clicco lì si apre questa piccola finestra all'interno della quale ho quattro opzioni per colorare questo rettangolo all'interno allora la primissima opzione questa qui in realtà se ci clicco sopra non è un'opzione di colore cioè cliccando qui decido che il rettangolo è trasparente all'interno quindi barra rossa significa trasparenza il secondo bottone significa un unico colore in questo caso è blu perché la palette fuori dice che è blu la terza opzione è una sfumatura lineare in questo caso da sinistra a destra quarta opzione è sempre sfumatura ma dal centro verso l'esterno sempre da azzurro a blu scuro bene ne vediamo una per una ricominciamo dalla prima opzione di colore che è tinta unita questo do l'ok per cambiare il colore clicco adesso sulla palette qui a destra e si apre la palette dei colori del tutto identica a quella che abbiamo già visto nella lezione sul livello di testo c'è la colonna dei colori delle tonalità di colore proviamo con un rosso e qui a sinistra la zona dove decido la sfumatura di quel colore proviamo adesso le altre due opzioni sempre clicco sulla parola fill qui clicco sul terzo bottone vediamo la sfumatura lineare per decidere i colori clicco sempre sulla palette in questo caso ci sarà una piccola differenza qui in basso è tutto uguale ma poi c'è anche questa barra che decide da quale colore a quale colore va la sfumatura per cambiare questi due colori basta cliccare sui pulsanti qua sotto nella parte bassa della barra clicco sul primo e poi decido che colore voglio per esempio anche qui rosso clicco sul secondo qui a destra e poi decido quale colore voglio potrebbe essere giallo quando ho deciso quali sono i colori della sfumatura do l'ok poi dovrei decidere quanto lunga è la sfumatura e che direzione ha per fare questo devo lavorare su questi due punti qua dentro uniti da questa linea qua nel caso non si vedano bisogna sincerarsi di questa cosa qua primo che sto lavorando con lo strumento selezione la sua in cima e se ancora non li vedo devo proprio attivare qui nella timeline il contenitore della forma in questo caso rectangle one ci clicco sopra con lo strumento selezione allora sicuramente vedrò questi due punti qua ecco a questo punto prendo per esempio il giallo che è questo secondo punto e voglio che sia qua sulla destra poi prendo l'altro punto che è il rosso e lo metto qui e la sfumatura va da questo punto a quel punto più li avvicino e più la sfumatura è breve in questo caso rosso giallo poi da qui in poi tutto giallo invece se si è esposto il giallo qua la sfumatura va praticamente da tutto sinistra a tutto destra poi la direzione della sfumatura dipende da me dove vado a mettere i punti può essere diagonale, dritta, come voglio bene, proviamo l'ultima modalità di colorazione clicco di nuovo sulla parola fill clicco sul quarto bottone do l'ok i colori sono già questi due e in questo caso voglio che il centro rosso lo voglio qua e il giallo qui in periferia benissimo questo per quanto riguarda la colorazione del riempimento adesso vediamo lo stroke cioè il bordo anche qui clicco sulla parola stroke ho sempre le quattro opzioni in questo momento è spuntata la prima barra rossa il che significa che è trasparente il bordo infatti non si vede se clicco il secondo bottone do l'ok in questo caso mi dice che è bianco perché la palette dice che è bianco con spessore 3 anzitutto cambiamogli il colore anziché bianco ci clicco sopra e lo metto blu do l'ok lo spessore qui che è 3 pixel è un po' poco aumento e adesso si che si vede bene le altre due opzioni se clicco sulla parola stroke sono sempre lineare e radiale però sono veramente rari e poi sono molto strani applicati a un bordo qui non li prendiamo neanche in considerazione lasciamo la seconda bene rimettiamo come fill il tinta unita elimino di nuovo tutto allora se io creo un rettangolo doppio clic e ho creato un rettangolo con le ultime impostazioni di colore che avevo dato bene ora se io lascio attivo questo livello cioè nella timeline è ancora selezionato e quindi attivo e proseguo a creare delle forme in questo caso adesso voglio creare un ellisse se faccio doppio clic sulla forma ellisse creo un ellisse sempre rosso col bordo blu però guardate qui nella timeline non ho creato un nuovo livello shape layer no la forma ellisse si è aggiunta alla forma rettangolo dentro lo stesso shape layer per cui questo livello shape layer è un contenitore di due forme per cui è possibile aggiungere più forme all'interno di uno stesso livello bene torno indietro ctrl z a quando avevo soltanto il rettangolo se io invece volessi creare un nuovo shape layer con dentro un ellisse allora dovrai prima essere sicuro che questo shape layer non è selezionato e per fare questo clicco in un punto vuoto della timeline e lo shape layer si è deselezionato a questo punto se creo l'ellisse doppio clic ho creato un secondo shape layer questo shape layer 2 che contiene la forma ellisse quindi molto attenti a questo fatto qua poi seconda cosa bisogna notare che ogni volta che si crea uno shape layer il nome che gli viene assegnato da after effects in automatico è appunto shape layer 1 2 3 4 5 e noi sappiamo che in after effects nominare le cose è importante quindi bisognerebbe sempre ricordarsi di rinominare i shape layer una volta creati in questo caso rinominiamo questi due livelli lo shape layer 1 ci clicco contiene un rettangolo per cui magari lo rinomino rettangolo per rinominare un livello si fa così si clicca sopra tasto invio rettangolo e poi tasto invio stessa cosa per lo shape layer 2 seleziono invio ellisse e poi di nuovo invio vediamo un'altra cosa importante elimino di nuovo i due shape layer prendo in considerazione un caso un po' diverso cioè aggiungo adesso nella timeline una fotografia per esempio questa ok la riduco ora in questo momento c'è questa fotografia selezionata nella timeline prendo lo strumento rettangolo vado a disegnare un rettangolo questa volta lo faccio a mano il risultato non è la creazione di uno shape layer ma di una maschera cioè di un ritaglio sopra quella fotografia lì e lo si vede qua nella timeline ho generato questo oggetto maschera che non è uno shape layer è un'altra cosa che vedremo in lezioni successive è importante per fare altre cose quindi attenzione a questa cosa qui ribadisco torno indietro ctrl z se c'è attiva nella timeline un oggetto che non è uno shape layer in questo caso una fotografia con quei due strumenti da su in cima qualsiasi forma scelga qua o il pennino non genero shape layer ma maschere se voglio creare un rettangolo e lasciare la fotografia così com'è devo disattivare la fotografia nella timeline quindi clicco in un punto vuoto nella timeline la fotografia non è più selezionata adesso se io prendo il rettangolo e lo creo questa volta ho creato veramente uno shape layer separato dalla fotografia quindi importantissima anche questa cosa bene poi il discorso sulle shape layer non si ferma naturalmente qua dentro la sezione contents degli shape layer ci sono altre proprietà che poi vedremo oggi non le prendiamo in considerazione e poi a parte queste 3-4 proprietà che ci sono qui c'è anche una sezione qui sulla destra questo menu con dentro altre proprietà che modificano ancora in modi diversi le forme che io genero poi si possono addirittura combinare più forme al proprio interno e fare tante altre cose interessanti ma tutto questo lo vedremo in lezioni successive più in là dedicate apposta alla gestione degli shape layer quindi anche per oggi direi che è tutto ci vediamo alla prossima ciao